Jacopo Massari probabilmente sul 2-0 ci credevate solo voi? Vabbè, quello sicuramente, nel senso che quando sono partite secche così non è mai finita. Ci abbiamo creduto tanto, peccato perché comunque quando arrivi lì in tie-break così è veramente una sofferenza vederlo sfuggire via. Cosa vi è mancato, se secondo te se vi è mancato di più qualcosa nel finale di secondo set oppure nel tie-break? Penso che i primi set ci stavano a partire anche così perché siamo una squadra nuova, quindi alcune cose ancora devono essere rodate. Nel quinto set ci è mancato veramente poco, sono veramente molto dispiaciuti. Avete dimostrato che in questo momento siete alla pari con Macerata? Sì, sì, assolutamente. Penso che forse qualcuno non credeva che fossimo alla pari, noi pensiamo e cercheremo di giocarcela con tutta la pari.